La stima calcolata dalla CNA a livello nazionale delle tasse che le imprese pagano sui rifiuti già avviati allo smaltimento è di un miliardo per il solo 2015. Questa cifra pesa le imprese a causa di una diffusa applicazione illegittima della Tari, il tributo destinato a coprire le spese sostenute dalle amministrazioni municipali per il servizio pubblico di raccolta rifiuti. Un tributo trasformato in un bancomat per i comuni che il sistema produttivo è costretto a alimentare. La denuncia è sempre della CNA che evidenzia anche che le imprese sono costrette a pagare due volte per lo smaltimento dei rifiuti speciali. Da una parte infatti conferiscono a pagamento a ditte speciali determinate tipologie di rifiuti e dall'altra parte pagano la tassazione. Per questo la CNA ha annunciato di voler svolgere una campagna di verifica dei regolamenti comunali di applicazione della Tari. Nella legge di stabilità 2016 si dispone che il calcolo della Tari avvenga sulla base delle quantità e qualità medie e ordinarie di rifiuti prodotti e non sull'effettiva quantità. Viene inoltre prorogato al 2018 il termine entro il quale il comune dovrà avvalersi, nella determinazione della Tari, anche delle risultanze del fabbisogno standard. Di fatto dunque si rinvia ancora l'attuazione da parte dei comuni dell'applicazione della tariffa puntuale, mantenendo una situazione che grava sulle imprese. Grazie.